Sono Carlo Riccio, candidato alle comunali di Torre del Greco, sono con la lista di Danova e il sindaco Ciro Borriello. Gli obiettivi che intendo realizzare sono due, sossegna l'impresa con l'uscita dell'autostrada via Giovanni XXIII per dare sia alle imprese uno sbocco occupazionale migliore nei servizi e sia dal lato stradale avremo una decongestione sicuramente notevole del traffico. Il secondo obiettivo è per quanto riguarda l'abusivismo edilizio dove ho visto delle criticità che erano all'interno dell'amministrazione che andavano contro i cittadini e contro le imprese. Votare Carlo Riccio significa competenza, professionalità, essere al servizio del territorio da sempre. Il mio impegno per questa città continuerà anche dopo le elezioni.